Sono i nostri primi mille giorni di vita ad influenzare il benessere di ognuno di noi. Da vent'anni l'Africa Chiama si prende cura di mamme e bambini proprio in quei primi mille giorni. Abbiamo bisogno di te per garantire visite antenatali, parti sicuri, cibo e cure. Invia ora un sms al 45593 o chiama da rete fissa. Abbiamo mille giorni per cambiare la sua vita a partire da adesso.